Signore e signori, buonasera e benvenuti. Dino Paoli, mezzo secolo di storia, di prodotti, di persone che hanno costruito il successo di un'azienda di rilevanza mondiale. Da una 600 multipla alle vette del motorsport. Direi un traguardo meraviglioso e devo assolutamente ringraziare tutti voi, perché grazie a voi questo è stato possibile. Per noi ognuno è fondamentale e indispensabile. Io ho avuto la fortuna di iniziare la mia avventura in Formula 1. Iniziamo a usare per la prima volta le pistole della Paoli. È stato un rapporto stupendo, direi da fratelli. Abbiamo fatto insieme tante avventure. La Minardi si ha fatto tanti anni in Formula 1 contro i colossi. L'automobilismo mondiale lo deve anche a questi fornitori, come per esempio Paoli, che ci hanno sempre supportato e ci hanno fatto fare cose che probabilmente il mio budget non mi avrebbe permesso. Una stupenda avventura insieme. Dal 68 al 2018, sempre all'avanguardia. Direi che ci abbiamo provato. Mi pare di poter dire con orgoglio che ci siamo riusciti anche piuttosto bene. Cosa ne dite? Certo che sono d'accordo, è ovvio. Grazie. Noi siamo partiti con l'automotive, poi abbiamo continuato col motorsport, ma oggi il motorsport regala anche delle soluzioni tecnologiche di nuovo di ritorno all'automotive industria, il che è molto positivo per noi. Qual è l'importanza della Dino Paoli nei pitstop oggi? È fondamentale. Basti pensare che in alcune zone del mondo, neanche troppo lontane da noi, l'avvitatore da pitstop si chiama Paoli. Oggi la Paoli è fornitore esclusivo della NASCAR per tutto quello che riguarda il pit equipment. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io devo assolutamente ringraziare tutti i nostri dipendenti, tutti i nostri fornitori, perché è stato fatto uno sforzo in mano da parte di tutti e veramente grazie di cuore. Grazie. Grazie a tutti.